Successo per le baccanti di Euripide, tragedia messa in scena al Teatro Rosso di San Seconto dagli alunni del Laboratorio Teatrale dell'Iceo Classico Linguistico e Coreutico Ruggero VII. Un'opera impegnativa che ha visto un'attenta analisi del testo originale e il coinvolgimento di circa 90 studenti, tra attori, ballerini, musicisti, truccatori e responsabili di sala. Molti riconoscimenti e soddisfazione da parte dei docenti che hanno seguito i loro ragazzi, dei genitori, delle famiglie che sono state presenti in sala per questa performance finale. Da quasi 20 anni effettivamente che svolgiamo questa attività. Quest'anno ci siamo cimentati nuovamente, dopo 7 anni per la verità, con un testo molto difficile e molto problematico e abbiamo cercato di dare un taglio completamente diverso alla messa in scena, nel senso che è ambientato in un futuro possibile e Dioniso, in sostanza, torna a riportare in qualche modo il sentimento e la passione in un ambiente che è ormai dominato soltanto dalla ragione e dalla scienza. Questo è un po' il taglio della tragedia di quest'anno. A curare la regia dello spettacolo per il quarto anno, Marco Tringali, direttore del Teatro degli Specchi, soddisfatto del lavoro svolto con gli studenti del classico. Ho condiviso con il pubblico un pensiero, ho chiesto ai ragazzi tanto, li ho portati sotto pressioni inaudite, sotto pressioni e temperature inaudite. Ho preteso tanto ma perché ho creduto tanto in loro. E credere e pretendere insieme è il giusto connubio. Bisogna investire in questi ragazzi, sono dei diamanti. Quelle pressioni inaudite sotto terra fanno del carbone fossile, o lo lasciano sudato oppure ne fanno diamante. Visibilmente emozionati gli studenti che hanno preso parte alla rappresentazione teatrale. Diversamente dagli altri anni non siamo soltanto presenti in musica ma anche in battuta. Infatti abbiamo delle battute all'inizio dove spieghiamo la chiave della tragedia di Dioniso che vuole vendicarsi delle sorelle di sua madre, Semele, che non credevano che lui fosse un dio. Ad aprire lo spettacolo il concerto di danza degli alunni della prima classe del liceo coreutico, seguiti dalle loro docenti che hanno preparato coreografie ad hoc. Devo dire che questo spettacolo è stato mirato soprattutto all'aspetto tecnico, accademico, sia di tecnica classica che di contemporaneo. Consegnati per l'occasione due riconoscimenti alle studentesse Paola Butera per aver partecipato al premio nazionale letterario Colletto di Corleone con la poesia letteral padre e Alessandra Giuliano, seconda classificata con la poesia e il mobile, al concorso di poesia nazionale Anna Maria Sanzo.